C'è una incertezza di fondo che è data dal tema di inflazione, recessione in particolare, sappiamo che in Germania questo è particolarmente sentito, abbiamo due guerre in corso, ci sono delle tensioni geopolitiche che non fascinano neanche il trading internazionale, questo porta molte tensioni nelle aziende. Il naturale deriva di questa tensione potrebbe essere per i leader aziendali, così come per i politici, focalizzarsi sul momento su se stessi, quindi ognuno pensa ai propri obiettivi, alla propria azienda, questo potrebbe portare anche a una deriva se riguarda il mondo business dove noi operiamo, anche a una visione capitalistica ancora più avida, però invece è un momento in cui sarebbe meglio ampliare un po' il punto di vista, invece cogliere questo momento per creare nuovi setting e avere un impatto positivo a livello sociale, anche perché questo potrebbe essere uno dei driver di trading. città 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 Grazie.